Dobbiamo rimboccarci le maniche e riportare di nuovo al centro la famiglia, non soltanto da un punto di vista della cultura e quindi fare di tutto perché cresca sempre di più la consapevolezza che la famiglia è la cellula principale per una società, la famiglia è la cellula dove si trasmettono i valori, dove si trasmette il primo dono che è quello della vita, che abbiano a fare di tutto per supportare il più possibile il tema della famiglia. Questo deve essere fatto a livello di leggi che promuovono ad esempio la capacità lavorativa, dobbiamo fare e proporre essere capaci di supportare un'azione politica che ancora una volta va a difesa dell'esistenza della vita. La famiglia è certamente il cuore della realtà di impegno ma abbiamo bisogno però che non rimanga sola in se stessa perché se rimane sola non ha nessuna capacità di poter sviluppare quelle ricchezze fondamentali che contiene in sé. Si trova minacciata non soltanto la famiglia, nel mondo purtroppo si trova minacciata la vita umana. C'è una grande contraddizione che noi stiamo vivendo in questi giorni, la contraddizione per cui difendiamo e sorgono sempre di più delle associazioni che difendono la natura ed è giusto che sia fatto così, che difendono specie di animali che sono in via di estinzione ed è giusto, bello che venga fatto così, ma è ugualmente estremamente importante che cresca sempre di più la consapevolezza che da salvaguardare, promuovere e difendere è soprattutto la vita umana. La vita umana dall'inizio del suo concepimento fino alla sua fine naturale. All'interno di tutto questo ci sono tante situazioni che richiedono il rispetto assoluto per la dignità della vita umana. Tutti i diritti che oggi noi verifichiamo, che sono presenti nella cultura di oggi, i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino sono tali perché alla base vi è un diritto ed è quello del rispetto della dignità della vita umana. Questo rispetto per la dignità della vita umana deve rimanere sempre, soprattutto in quelle situazioni in cui la vita umana è più debole, è più innocente. Nessuno può permettersi di sopprimere una vita umana solo perché ritiene che non sia degna di essere vissuta. La bioetica presenterà anche nei prossimi decenni delle tematiche sempre più importanti che creeranno necessariamente un confronto e a volte anche uno scontro all'interno della società. È inevitabile questo perché la scienza fa dei progressi e davanti ai progressi della scienza noi ci ritroviamo che sorgono sempre di più delle problematiche di carattere etico. Allora è necessario che tutti noi, la comunità cristiana, è necessario che la famiglia, è necessario che i parlamenti anche, siano capaci di ritrovare un elemento fondamentale che è un denominatore comune per tutti, quello della legge naturale. La legge naturale non è un'invenzione cattolica, la legge naturale esisteva prima che esistesse lo stesso cristianesimo, perché della legge naturale ne parlavano i greci, ne parlavano i romani, è presente nel diritto romano, Cicerone ha dei testi fondamentali parlando della legge naturale. In tutte le religioni questo concetto, anche se con un linguaggio diverso, è presente. Ciò significa che all'interno del creato, all'interno della natura ci sono delle leggi fondamentali, dei principi fondamentali che aiutano a capire e a rispettare il bene e a promuoverlo sempre di più. E quindi ci sono dei principi etici, frutto della ragione che l'uomo riconosce presenti nella natura, che aiutano a distinguere il bene dal male. Noi dobbiamo fare di tutto perché non ci sia quella tentazione spesso presente in alcuni, per cui davanti alla conquista scientifica chi ne utilizza sono sempre le persone che hanno più potere, che hanno più strumenti e altri invece che vivono situazioni di povertà sono lasciati in un isolamento. Questo non è il rispetto per la dignità della persona. Davanti a questi fatti abbiamo bisogno che ci sia il riconoscimento della dignità e della pari, uguale, identica dignità per la vita umana come tale e che nessuno possa arrogarsi il diritto di avere la presunzione, perché è più forte, di schiacciare il più debole.